Sbloccare il veicolo e aprire lo sportello del bagagliaio. Staccare il coperchio di accesso alle luci. Agendo dall'interno, staccare i due dadi di fissaggio del gruppo luci. Sganciare lateralmente il gruppo luci. Quindi tirare il gruppo luci. Attenzione! Le lampadine sono pressurizzate e possono esplodere durante la sostituzione. Sganciare il portalampada. E sostituire la lampadina interessata. Per riattaccarla, agganciare il portalampada sul gruppo luci. Riposizionare il gruppo luci senza danneggiare il cablaggio. E agendo dall'interno, staccare i due dadi di fissaggio del gruppo luci. I S Grazie.